Sarebbe un risultato molto importante, sarebbe un risultato che tutto il territorio ha perseguito, sostenuto fortemente dalla regione e questo per noi è stato fondamentale. Credo che se così fosse sarebbe una novità importante non solo per il Tribunale, ma sarebbe un momento significativo perché tutto il Bassanese assumerebbe un ruolo rilevante in tutta l'area pedemontana e quindi l'ipotesi tribunale potrebbe essere replicata in altri settori, soprattutto in momenti in cui gli ambiti provinciali sono messi in discussione. Sappiamo anche quanto andrebbe a pesare in maniera positiva a livello economico, a livello dell'economia del nostro territorio. Sì, assolutamente una giustizia a Celere non può che andare a vantaggio di tutta l'economia. Gli imprenditori lo sanno benissimo, soprattutto quando si devono riscuotere crediti, ma poi soprattutto quando si devono risolvere problematiche, perché anche le ditte straniere, se devono investire da noi, pensando di avere qualsiasi tipo di problema e che questo possa risolversi dopo anni, credo che siano fortemente disincentivate. Quindi è una cosa assolutamente fondamentale.